Anche oggi il consiglio è ostaggio di Berlato perché stiamo nuovamente trattando un tema che riguarda la caccia, però qua si va a fare addirittura qualcosa di estremo, a limitare chi liberamente decide di manifestare contro la caccia, quando si tratta di essere pro o contro. Per chi disturba i cacciatori come qualsiasi altro cittadino c'è già il codice penale. Chi addirittura si spinge verso la violenza è prevista la reclusione fino a 4 anni, quindi questa legge non ha neanche senso di esistere. Se poi consideriamo anche gli importi, che questa legge arriva fino a 3600 euro di sanzione, mentre per chi fa braconaggio si arriva a 1200 euro, è palese la sproporzione di queste due pesi e due misure. Voglio approfittare invece di questa occasione per fare una proposta obiettiva che va nel senso di escludere eventuali incidenti nell'ambito della caccia. Cosa si tratta? Quando il cacciatore e un escursionista arrivano troppo vicini, un'applicazione li può avvisare e quindi sono consapevoli della vicinanza di un'altra persona e potranno decidere se continuare per la loro strada o prendere altri percorsi.